Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo approfondimento, è un approfondimento di stampo politico quello che affrontiamo questa sera, abbiamo ospite qui nei nostri studi uno dei candidati alla corsa a sindaco che salutiamo subito, buonasera benvenuto Teodosio Auspici, la sinistra per Fano è la lista e quindi cerchiamo di capire nei minuti che abbiamo a disposizione alcune motivazioni che hanno spinto Auspici a candidarsi a sindaco, quindi entriamo subito nel vivo, facciamo una breve presentazione per chi non la conosce chiaramente perché ci rivolgiamo a una platea molto ampia. Buonasera a tutti, avevo piacere di presentarmi, sono Teodosio Auspici, ho 47 anni, sono sposato, ho due figlie di 12 e 7 anni, nel mio percorso di studi mi ha visto frequentare la scuola di TTC Battisti, di Fano, insomma di ragioneria e poi andare in Ancona e mi sono laureato in economia e commercio. Quindi ho anche conseguito presso l'Università di Urbino all'abilitazione e alla professione, sono stato anche iscritto all'albo di dettori commercialisti della nostra provincia, come ho fatto delle consulenze aziendali, sono un uomo di imprese, sono una persona che ha sempre lavorato all'interno delle imprese, fino a tre anni e mezzo fa, quando proprio ne ho fondata una e per la prima volta sono venuto a Fano a lavorare, perché in realtà sono sempre lavorato non lontano, però sempre fuori da Fano. Ho sempre svolto quindi e sto svolgendo degli ruoli direzionali e di, come dire, amministrazione e di gestione insomma delle aziende, in questo momento ho una trentina di dipendenti, quindi insomma conosco quelle che sono le problematiche che si devono affrontare in un momento così difficile di crisi. Bene, nella sua lista ci sono diversi componenti sociali della società di Fano e da subito vi siete presentati con un punto saldo, ovvero la sanità, attraverso anche un esposto che avete presentato proprio sul focus sulla sanità. Sì, io direi insomma partendo un po' dalle ragioni che ci hanno spinto a tutti noi, in primis come candidato sindaco di questa candidatura, è chiaro che le ragioni sono politiche, sono di una visione di una città che non la vediamo, di delusione anche rispetto a quelli che sono stati questi cinque anni dell'amministrazione di centro-sinistra, dove insomma la sinistra ne vedo veramente poca e quindi era il momento assolutamente di scelte chiare, nette, perché la gente altrimenti non ci capisce più, non ci crede più e infatti anche in questa campagna elettorale quello che noi incontriamo è anche un po' di ritrosia, di scetticismo verso l'impegno politico. Noi siamo ripartiti, come dire, con questa lista da sinistra per Fano, con una connotazione ben chiara di da che parte stiamo, questo non vuol dire che siamo la sinistra radicale, ci tengo a dirlo, perché di radicale noi abbiamo la chiarezza e la nettezza delle nostre idee e oltre le quali non possiamo andare e come giustamente tu mi domandavi, una di queste, probabilmente la principale è quella della sanità, la sanità che non si può dire una cosa e farne un'altra, non ci si può ritenere di sinistra e poi, come dire, favorire un'idea di sanità che vede non la difesa del diritto universale alla salute di tutte le persone, perché la nostra provincia ha conosciuto purtroppo i chiusure di tantissimi ospedali, questa scelta scelerata di puntare esclusivamente e poi chissà quando a un ospedale unico, con un project financing e con una finanza di progetto, mi piace parlare in italiano, che impegna per i prossimi 30 anni fino ad arrivare a una cifra astronomica di un miliardo di euro e che in realtà ci vede costruire, forse io dico perché faremo di tutto per non farlo, ma non contro un ospedale nuovo, contro quel tipo di ospedale, perché un ospedale pubblico ben venga e non in quella zona, una zona dove e qui nasce l'esposto, sappiamo, ma non lo diciamo noi, le dicono le carte regionali, i piani paesaggistici, i piani regolatori, dicono che è una zona franosa, su un terreno sabbioso, con ai suoi confini un rischio esondazione, con una ripercussione in caso di terremoto più alta proprio per la tipologia geologica del terreno, una collina scoscesa anche molto più costosa di altre zone, quindi come al solito non si capisce perché si deve scegliere sempre la cosa meno logica, cioè dove sta il buonsenso e da qui l'impegno anche di questo esposto. Per tornare poi a Fanno dove, mal collegata, conosciamo tutti, anche qui, chiunque ci arriva che non è una cosa fatta bene per Fanno avere un ospedale in quella zona a Pesaro, un depotenziamento continuo purtroppo del nostro ospedale che aveva diversi reparti Fiori e Locchiello e di contro, anche qui un po' così furbescamente l'ultimo minuto, si concede invece la nascita di una clinica privata. Chiaramente come persone di sinistra prima vogliamo il pubblico, non è che abbiamo un no ideologico contro il privato, di chi parla è un imprenditore, voglio dire non è che, quindi però è anche altrettanto secondo noi preoccupante che gli altri non lo vedano che non è una sanità complementare ma bensì sostitutiva e quindi non ci possiamo altro che aspettare un Santa Croce sempre più in difficoltà. Noi invece vogliamo mantenerlo e anzi vogliamo anche un'altra idea un po' più diffusa sul territorio di sanità perché le emergenze vanno affrontato, il privato non ti fa la clinica privata, non ti fa i reparti di emergenza perché sono reparti che costano tanto dove non si incassa le prestazioni che si incassano invece come avviene qui a Fanno proprio 50 posti letto per ortopedia, per interventi di questo genere che sappiamo che costano di più, vengono pagati di più e paghiamo sempre noi e poi si arrivano a un sistema malato che noi un po' denunciamo e siamo preoccupati e che tra l'altro le cronache di questi giorni ce la mettono un po' alla ribalta perché sappiamo insomma degli interventi della giustizia nell'Umbria che hanno portato alle dimissioni del governatore. Un sistema che ci fa pensare a delle lobby dove il Partito Democratico purtroppo è molto coinvolto. Allora il candidato sindaco Teodosio Auspici ha avuto un passato in Aset quindi siccome uno degli argomenti di maggiore attualità in questo momento sono le bollette e i rincari, Auspici lei a onore del vero può dire con cognizione di causa qualcosa su questo aspetto? Direi di sì, anche qui si vede proprio questo distacco che si ha tra il dire e il fare, quello che ricordavo poco fa, cioè sono stato presidente dell'Aset Holding portandola fino alla fusione, una fusione che aveva l'obiettivo di rafforzare e capitalizzare un'azienda che poteva permettere nuovi investimenti, di presentarsi sul territorio con maggiore forza proprio per dare delle risposte ulteriori e tra le risposte che deve dare ci sono dei benefici per la collettività. Quindi il primo beneficio che la collettività deve avere, la cittadinanza deve avere è un vantaggio tariffario. Cosa assistiamo in questi giorni? In un autogol clamoroso per quanto mi riguarda, tra l'altro, ma benvenga. Purtroppo non benvenga per i cittadini, però c'è stata questa sorpresa dell'aumento delle tariffe dell'acqua, cioè un bene universale. Anche qui andiamo a toccare un qualcosa di vitale. Io, come prima abbiamo parlato di sanità e poi andiamo sull'acqua. Quindi siamo su delle cose che per i cittadini sono vitali e come li trattiamo? Li trattiamo alla strega di qualsiasi altra cosa. Cioè in realtà qui dobbiamo avere un approccio diverso, un approccio universalistico appunto e quindi se non ci si può nascondere dietro un provvedimento della Rera che però è sempre gestito dalla politica. Qualcuno è andato un anno dopo, io dico, a questo provvedimento che è nel 2017 all'atto nel 2018, quindi si è perso un po' di tempo. Qualcuno del Comune ci è andato a votare e c'è stato un assessore che è andato a votare anche l'aumento delle tariffe. Però si poteva fare diverso, si poteva prevedere una tariffa agevolata superiore, si poteva posticipare perché comunque la norma dice che questa tariffa puntuale deve entrare in vigore dal primo gennaio 2022. Quindi non si può dare altre interpretazioni che o un'estrema superficialità e quindi questo non va bene, non ci si improvvisa in nulla in questi casi e quindi molto grave, molto grave da parte sia dei vertici dei zandali che del sindaco in primis e dell'amministrazione che ne detiene il 97%, come sappiamo. Ma è anche molto grave anche perché c'erano tutte le possibilità per avere altri provvedimenti. Oggi cosa deve fare ASET? Si deve far carico di questi aumenti che vanno a colpire prevalentemente le persone monofamiliari e bifamiliari che forse io direi con alta probabilità sono famiglie anche di anziani, anche gli stessi single che si trovano penalizzati e quindi come dire famiglie che non hanno quelle economie di scala. Vedo proprio che si va in una direzione contraria a quella che si dovrebbe fare. che ASET paghi questi conguagli e trovi il modo? Non è giusto nemmeno dire ci sono le rettizzazioni, 12 mesi, cosa vorrebbe dire? Il cittadino deve essere sempre vessato, deve sempre essere lui che deve andare a chiedere qualcosa, perché qualche volta è anche umiliante io dico, devi andare sempre a chiedere, a dimostrare che sei in difficoltà. non mi sembra il giusto rapporto con la cittadinanza. Bene, chiarissimo, quindi incorporare questi perlomeno i conguagli, almeno mi è sembrato di capire. Quello che è giusto pagare tocca pagare. Esatto, però si poteva fare diversamente. Allora, un'altra cosa che volete sottolineare è la mancanza di programmazione, non c'è una visione, almeno per quello che mi intendo capire dal vostro programma. Beh, sì, questo è un grande tema che meriterebbe tantissimo tempo, cerchiamo di riassumerlo in due battute. Piano regolatore Alguzzi, sovradimensionato, molto criticato, 2009. Arriviamo, come dire, al 2014, 5 anni di amministrazione, non si è fatto nulla per cambiare questo piano regolatore. Sapevamo che era sovradimensionato per abitazioni, per abitativo e per anche commerciale. Se uno non pone dei rimedi, non pone degli argini, vuol dire che si muove in piena continuità e quindi vuol dire che ti sta bene. Cioè, il messaggio che passa, ma non è un messaggio, è la realtà, perché a noi ci interessano i problemi reali, è che va bene così, continuiamo così e continuiamo ad aprire supermercati, tra l'altro, ovviamente, in periferia o quantomeno al di fuori della cinta classica del centro storico, del centro città. Quindi le persone non arrivano nemmeno più in centro. E poi ci domandiamo perché il centro vive una crisi? Signore, qui bisogna essere chiari, sono errori di programmazione, che oggi purtroppo hanno i permessi e quindi la frittata è fatta. E bisogna rincorrere, bisogna rincorrere, tra l'altro anche in modo, cioè proprio senza una visione, perché se prima la zona commerciale preposta era di via Inaudi, uno deve continuare in quel momento, cioè diciamo in quella direzione lì, coerentemente. Però sappiamo che la coerenza non è tanta compresa, diciamo, da qualche parte politica. Chiudo così. Esatto, va bene. Facciamo un'ultima considerazione sugli interventi flash, ultimo minuto. Ma sì, ma adesso io questo sì, volevo dire... Allora, intanto noi presenteremo adesso l'annuncio giusto, uno studio sugli appalti che sono stati fatti in questi 5 anni. Perché il sindaco Seri è partito nei mesi scorsi da 160 milioni, poi sono diventati 150, ogni 15 giorni è calato di 10 milioni. Ultimamente siamo intorno ai 120. Cioè non si possono dare questi numeri. Ci sono gli appalti, c'è la trasparenza della pubblica amministrazione, andiamo a vedere gli appalti, quanti sono stati dati. Perché conteggiare un protocollo di 20 milioni per la sanità e poi ci si accorge che non ci si fa manco qualche chilometro di strada. Conteggiare tutte le opere di compensative dell'autostrada. Voglio dire, per carità, sono opere che la città ha subito un disagio e poi se le ritroverà. Però voglio dire, non è che l'ha portata questa amministrazione. Conteggiare altri interventi così spot, non mi sembra un modo realistico di rappresentare l'operato. Uno, diteci quanti appalti avete fatto. Non gli vedo tutti questi numeri così grandi. E soprattutto, come dire, la conferma la dà gli ultimi minuti. Quelli che in questi mesi uno parla della problematica del Lido e quindi si corre i ripari, si cerca di fare una rampa in cemento con un'aiuola che è stata scaricata, il cemento che è avanzato lì in malo modo. Poi vai giù al ponte dell'Arzilla e è stata fatta praticamente una diga. Attenzione in caso di una pioggia forte. Anche qui cosa sono? Se non mancanza di programmazione. Ma ci dico anche mancanza di attenzione verso la città, verso la cura che anche in questa campagna elettorale dove vado, dove andiamo è la prima cosa che ci dicono. Ma questi amministratori, l'occhio, dove ce l'hanno? Io lo chiamo l'occhio perché te devi avere la passione per la città, tu devi girarla, non è che devi stare dentro la casa comunale, devi girarla, devi andarla a vedere. È chiaro che non ti devi solo occupare delle buche perché bisognava guardare anche un po' in prospettiva, però ci vuole occhio. Io questo cura della città, noi non l'abbiamo vista, se non in questi ultimi giorni che cercano qualche potatura. Beh, allora ha ragione la gente che dice si dovrebbe votare tutti i mesi, almeno si fa qualcosa. Bene, chiarissimo. Grazie Teodosio Auspici per il suo pensiero e la sua visione in prospettiva per queste elezioni. So che la riospiteremo ancora, quindi ci sarà ancora modo di sviscerare il vostro pensiero suo e della lista. Bene, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori. E anche grazie a voi per averci seguito sin qui, per questo approfondimento di stampo politico con uno dei candidati alla corsa a sindaco per le prossime elezioni, Teodosio Auspici per la sinistra per Fano. Arrivederci e buon proseguimento di trasmissione. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti i telespettatori.